Eccola, ecco, sento balzarmi il cielo. Venite signorina, don Alonso, che qui vedete, orvita la lezione. Che cos'è stato? Rampio il fiere. Buongiorno, sedete vicino, bella, pancia, se non vi spiace un poco di lezione, dirò Basilio, invece vi darò. Buongiorno, mi ammi acieri, la prenderò. E vuol cantare? Io canto se ne aggrada il rondon della donna del lago. Da Prada, incominciato. Buongiorno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.